Le donne sono totalmente indifferenti quando un uomo cammina per la strada. E' questa purtroppo la verità, secondo la mia opinione, di cui intendo farmi libero portavoce in questo video qua. Purtroppo mi sono accorto che praticamente tutte le donne che ci sono in Italia, dal mio punto di vista non si accorgono di quando un uomo cammina per la strada. Sì, c'è forse un 1% di donne o meglio di ragazze che si accorgono del cosiddetto uomo per la strada, ma deve essere un belloccio, deve essere un bel figo, deve essere un palestrato affinché ci si accorga effettivamente di lui. Quindi io posso anche essere il più figo del mondo, ma sì, probabilmente di me si accorgerà qualche ragazza, qualche donna, ma probabilmente quindi in rarissimi casi eccezionali. E' questa, secondo la mia opinione, la verità di fatto di cui intendo farmi portavoce in questo video che voi stessi state vedendo e state ascoltando oggi, che è il 25 settembre dell'anno 2017. Io non mi intendo chiaramente dire che tutte le donne sono così, tutte le donne sono indifferenti quando un uomo cammina per la strada, ma dal mio punto di vista, dal punto di vista di un filosofo, come mi proclamo, come mi definisco di strada, un filosofo di bar, un filosofo, chiamandomi così, in modo abbastanza semplice, diciamo così, di borgata, dico che le donne, al giorno d'oggi, la grande maggioranza delle donne sono indifferenti quando un uomo cammina per la strada. Alle donne sembra che non interessi quasi nulla degli uomini. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, questa è la mia verità, è la mia opinione, non ce l'ho contro i donne, vive Dio, donne uguale bellezza, uguale fascino, però, secondo me, sono così. Grazie, iscrivetevi, commentate, un cordialissimo salutone a voi tutti, grazie.